Ciao amici benvenuti nel mio canale. Ti sarei grato se ti piace iscriverti al canale prima di iniziare il video. Non dimenticare di attivare le notifiche per le ultime notizie. Furkan Palal ha rilasciato un'intervista alla rivista italiana The Style Researcher. La rivista, che ha realizzato un servizio speciale a Istanbul, ha portato l'attrice sulla copertina del suo nuovo numero. Palal ha parlato di amore nella sua intervista alla rivista. Dico la sconfitta della mente quando parlo di amore, ha detto Palal, quali tratti di una donna ti fanno dire recco la donna della mia vita. Ha risposto alla domanda come segue. La relazione non è sempre rosea. Combatterà per il suo amore fino alla fine, non sarà codardo, sicuro di sé, laborioso, ben curato. E andrà bene in cucina. Inoltre, il bel attore Furkan Palal è stato visto al matrimonio di Dimetos Demire Utsan Kok. Ha mostrato la sua amicizia non lasciando solo il suo ex partner nel suo giorno più felice.